Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete parliamo di zaini da trekking e nel particolare vediamo i migliori 5 zaini da trekking per questo 2023. Di tutti gli zaini analizzeremo un po' fascia lombare, schienale, come lavorano, pregi, difetti, ma bando alle ciance perché c'è tanto da dire e iniziamo subito col video completo. Il primo zaino che vi propongo è questo Ferrino Finister 38 litri, questo a mio parere è lo zaino che ha la miglior fascia lombare di tutti e 5, davvero se di solito vi dico che con 10 kg, 12 kg massimo, questo qua anche se sforate i 12 kg comunque riuscite a portare abbastanza a peso senza sentire dolore. Lo schienale invece con la tecnologia dry net system di Ferrino non dico sia il peggiore tra i 5 però si pone al penultimo posto, tutto perché come schienale è un pochino più portato all'essere ergonomico rispetto a essere uno schienale completamente telato, quindi bene il trasporto del peso, un pochino meno bene la traspirabilità. Altra cosa che non mi ha convinto di questo zaino sempre per quanto riguarda lo schienale è che non sia regolabile, non possiamo regolarlo in su e in giù, non vengono vendute taglie diverse in base alla nostra altezza, questo prendete e questo avete quindi dovete saperlo regolare. Sempre che non mi è piaciuto sono le tasche laterali, porta, borraccia che praticamente non sono a rete ma sono delle tasche chiuse, so che a molti invece potrebbero piacere perché l'ho utilizzato come zaino da viaggio e non da trekking e possono tornare utili, però noi lo analizziamo come zaino da trekking e questo caso è un difetto. E terza cosa che non mi è piaciuta, nella parte anteriore ci stava benissimo una tasca elastica, cosa che Ferrino non ha messo. In tutto ciò questo Ferrino Finister, naturalmente esiste anche la versione da donna, pesa 1,4 kg e all'aerso li trova attorno ai 120-130 euro, è il più economico dei 5. Il secondo zaino che vi vado a proporre è questo Lowell Pin Airzone Trek 35-45 e già qua dovreste capire il perché vi lo propongo, perché ha un litraggio tra i 35 e i 45 litri, quindi ha un grosso range di utilizzo, può essere utilizzato sia per escursioni giornaliere che magari anche per un'escursione di tanti giorni in cui vogliamo portare tanto materiale perché diventa fino a 45 litri. A livello di schienale e fascia lombare lui è medio, non eccelle particolarmente, però ha entrambi le soluzioni che lavorano molto bene, soprattutto mi era piaciuto molto lo schienale con la tecnologia Airzone che traspirava veramente molto bene. Fascia lombare una decina di chili come solito se sforate iniziano a sentirsi, soprattutto sulle spalle. Sempre per quanto riguarda lo schienale Airzone, questo è regolabile in altezza così da settarlo in base all'altezza della nostra schiena e l'Airzone esiste anche nel modello femminile. Aspetto che mi era piaciuto molto su questo Airzone era tutta la possibilità di poter prendere il carico all'interno, quindi poterlo aprire anche nella parte inferiore, tutta la parte esterna con la rete per poter portare altri oggetti. A proposito di reti invece, quello che non mi era piaciuto tanto è che non riuscivamo a prendere la borraccia da soli nelle tasche. In questo caso dovremmo farci aiutare da qualcuno oppure tirare giù lo zaino purtroppo. Per quanto riguarda il peso, è il più pesante dei 5 ma ci può anche stare perché è anche il più grosso di 5 col più litraggio. Pesa 1,6 kg. E per quanto riguarda il prezzo stiamo sui 140-150 euro online. Terzo zaino di cui parliamo è il Deuter Futura Pro 36. Questo qua tra tutti e 5 quello che ha la traspirabilità migliore. Davvero uno schienale a rete che sta molto distante dallo zaino, parliamo di un bel 5-6 cm di distanza. Ed è assicuro che a livello di traspirabilità non lo batte nessuno. A livello di fascia lombare ci siamo nella media, 10 kg possono bastare. La cosa però che non mi ha convinto è che essendo lo zaino così lontano dalla nostra schiena, se sforiamo i 10 kg sentiamo lo zaino che ci tende a portare all'indietro. Ci farà davvero male le spalle e davvero ci tenderà a portarci all'indietro perché il carico cade all'indietro. Quindi consiglio mio non sforate i 10 kg e se dovete sforare i 10 kg non prendete questo zaino. In generale poi questo Futura Pro 36 mi era piaciuto perché aveva davvero tante tasche, poteva portare tanti oggetti nella parte anteriore come anche un casco, diverse piccozze, bastoncini. Era organizzato molto bene, quindi anche qua Deuter da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro. La cosa che non mi era piaciuta anche su questo modello è che non si riusciva a prendere le borracce da soli. Si fa davvero tanta fatica oppure ci si fa aiutare. Infine questo Deuter Futura Pro 36 a livello di peso, anche lui pesa 1,6 kg. Esiste naturalmente anche la versione femminile e online come prezzo lo troviamo tra i 140-150 euro. Quarto zaino che vi vado a proporre è questo Denorface Hydra da 38 litri. Per quanto riguarda schienare e fascia lombare è il peggiore dei 5, anche di gran lunga. E allora voi sicuramente vi starete chiedendo e perché ce lo proponi? Perché comunque è uno zaino da trekking che sta comunque sopra la media di tutti gli zaini presenti in commercio e che ha dalla sua il fatto di essere veramente molto leggero. Pensate che nella taglia SM pesa solamente 990 grammi. Quindi addirittura 400 grammi in meno rispetto al secondo più leggero che abbiamo visto finora. Ok che magari non eccelle per quanto riguarda fascia lombare e schienale. Però in generale è davvero un ottimo zaino. Mi era piaciuta molto la tasca frontale, molto utilizzabile in cui si possono riporre tanti oggetti. Le tasche laterali dove si riusciva a prendere la borraccia anche da soli in questo caso. Aveva poi tutto il sistema anche superiore che alla fine ci si trovava abbastanza bene. Quindi in generale va bene non è uno zaino super top, però se dovete fare dei trekking senza caricarlo tanto, senza dover portarsi dietro tanti oggetti, lui col suo peso vi può aiutare ad essere molto liberi, molto free durante la vostra escursione. Il peso ve l'ho già detto, il prezzo lo troviamo sui 150-160 euro online. Arriviamo infine al quinto e ultimo modello, ovvero questo Gregory Zulu 35 litri. Personalmente io ho apprezzato veramente tanto questo Zulu perché secondo me è la giusta via di mezzo tra tutti gli zaini che abbiamo visto. Per quanto riguarda fascia lombare e schienale, alla fine lavorano bene. Non sono super eccellenti, non eccellono particolarmente in uno dei due, però hanno un giusto equilibrio. Soprattutto dello schienale mi era piaciuto tantissimo il sistema Free Float di Gregory. Grazie a questo sistema veramente non sentiamo lo zaino addosso, siamo completamente liberi nei movimenti, possiamo piegarci senza che lo zaino ci dia fastidio, alzare le braccia senza sentirci gli spallacci tagliare le scapole. Quindi questo sistema mi aveva convinto davvero tanto. Sempre per quanto riguarda lo schienale di questo Zulu era regolabile e naturalmente esiste anche la versione da donna che però attenzione si chiama Iade. Ma non solo, di questo zaino poi mi era piaciuta anche tutta la parte anteriore che si poteva aprire, diverse soluzioni per poter prendere il carico all'interno, aveva anche tutta l'ingegnerizzazione laterale per poterlo stringere anche nel caso si utilizzasse una borraccia. La borraccia purtroppo non si riusciva a prendere da soli anche in questo caso, però veramente questo zaino mi era piaciuto tanto per tutte le sue piccole feature. Infine per quanto riguarda il peso e il prezzo di questo Gregory Zulu, a livello di peso siamo su il 1,6 kg all'incirca ed è purtroppo il più costoso, parliamo di 170€. Detto ciò ragazzi, questi erano i miei top 5 zaini da trekking sui 35 litri di questo 2023. Spero di avervi aiutato davvero tanto nella scelta del vostro zaino da comprare per quest'anno e sarei curioso di sapere anche che zaino utilizzate. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che sono davvero tanto curioso. Detto ciò, io nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!